Aveva, ha presentato molte identità, quindi gli stessi documenti che sono stati trovati a Berlino e poi ovviamente tutto lo studio che si sta facendo su questo individuo parla di un individuo, di un soggetto che ha avuto diverse identità nel corso dei suoi passaggi dalla Tunisia all'Italia fino a Berlino. Qui Paola fra l'altro va detto che nel territorio a nord di Milano, qui ci troviamo tra nord e nord est di Milano aveva sei agli, sei identità, adesso direi che l'abbiamo fermato. Allora, Minniti è una persona serissima, se lui parla io ci credo. Minniti lo sentiamo tra poco, Luigi Casillo subito, torniamo a Milano. Ma noi non abbiamo ancora ricostruito la rete, non ci hanno ancora detto ufficialmente in quale carcere si è radicalizzato, che cosa ha fatto quando è uscito, quando è entrato, quando ha messo a rogo Lampedusa, quando ha andato a Enna, con Chiara Incella, cioè non è possibile. Poi mi lascia perplessa perché se aveva sei agli, sei identità, adesso direi che l'abbiamo fermato. Allora, Minniti è una persona serissima, se lui parla io ci credo. Minniti lo sentiamo tra poco, Luigi Casillo subito, torniamo a Milano. E allora Paola, noi stiamo cercando ovviamente conferme, fra un po' io risentirò ancora le nostre fonti.